Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Oggi parliamo di una nuova uscita della casa cinese Jinao, ovvero il modello 82. La penna è completamente in plastica con la parte interna della sezione in metallo e la chiusura del cappuccio a vite. Dotata del classico pennino Jinao di prima generazione, presenta nella parte interna della sezione, che come potete vedere è in metallo, un anello in gomma per un eventuale utilizzo come e-dropper. Mentre a livello estetico questa penna è una coppia della Sailor Lecolle. Quindi, allora, Jinao 89 Come sempre partiamo dalle misure. La lunghezza chiusa è di 124 mm. La lunghezza, solo fusto è di 111 mm. La lunghezza con cappuccio calzato è di 141 mm e mezzo. Il diametro del fusto è di 14,4 mm. Il peso, solo fusto è di 12 grammi. Mentre il peso totale è di 20 grammi. La protagonista della prova di oggi è dotata del pennino fine ed è caricata con il caveco Pearl Black. Passiamo adesso alla prova di scrittura. Il pennino è rigido, ovviamente non è flessibile. non presenta skipping. Vediamo come se la cava con la scrittura rovesciata. Scrive, scrive, scrive. Inchiostra anche abbastanza. Vediamo adesso un paragone con il pennino fine di ultima generazione, quello montato sulla Ginao 65. Quindi vediamo il pennino della Ginao. Insomma, il pennino fine della Ginao è tutta un'altra cosa. Proseguiamo adesso la prova di scrittura con una frase Ricordati sempre che per poter dirigere un'orchestra devi dare alle spalle al pubblico e scriviamo la stessa frase con la Ginao 65. Ricordati sempre che per poter dirigere un'orchestra di dare le spalle le spalle le spalle bene cari amici siamo arrivati alle conclusioni le conclusioni non sono positive questo pennino fine scrive con un tratto medio gratta ed ha un feedback ed ha un feedback decisamente elevato in pratica presenta le classiche caratteristiche di questa tipologia di pennini ma la cosa che non capisco è come mai la casa cinese ha scelto di dotarla con il suo pennino di prima generazione quando ormai su tutte le sue penne utilizza quelli di terza generazione che scrivono decisamente molto meglio bene cari amici con questo è tutto come sempre troverete l'ingrandimento della prova di scrittura ancora al video e se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre a scrivere un commento a mettere un like e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per le notifiche un caro saluto a tutti dal Pelicano Grazie a tutti